bella a tutti ragazzoli e benvenuti nel diciassettesimo episodio della nostra master lì che signori con la roma prima di partire col video vi ringrazio per i commenti e per il supporto che state dando a questa serie signori vi ringrazio tantissimo e spero che vi continua a che vi continui a piacere vi ricordo di suggerirmi ancora dei nomi perché ora prima prima cercheremo di raccogliere altri punticini e vediamo un attimino di proseguire con il prossimo acquisto signori noi veniamo dal pareggio contro il parma che non ci ha fatto muoverli molto in classifica però dobbiamo continuare su questa strada signori se vogliamo raggiungere il secondo posto dell'arsenal che è vista solamente sette punti sette punti di sette punti sono fattibilissimi procediamo all'incontro di oggi l'episodio 17 speriamo che ci porti fortuna signori anche della vedo la vedo un po la vedo così così però però ci proviamo però ci proviamo allora andiamo a sistemare la formazione come al solito signori noi giochiamo con le solite situazioni ovvero con 4 4 2 a diamante sono ripetitivo lo so ma e sono sono abituato così allora cellini lo mettiamo fuori per borlangen che su di morale ottimo babangita è così così babangita gioca non gioca non lo ispira più di tanto e lo mettiamo a posto di ximenes che giù di morale e invertiamo intanto ximenes co babangita e poi non so perché tutti in panchina ma va bene così gioca tutto tutti per milano gli attaccanti sono castello e su mamma mia questi sono proprio morti queste non voglio non ci hanno proprio voglia di giocare signori e noi non li facciamo giocare giochiamo contro l'arsenal signori questo è uno sconto diretto se vogliamo puntare alla promozione e al loro secondo posto signori questo è uno sconto diretto non facciamoci prendere dalle emozioni signori non abbiamo mai vinto contro l'arsenal e questa potrebbe essere la prima volta signori potrebbe essere la volta buona la volta buona signori nel primo episodio ricordo che abbiamo perso ma porca varlangen a chi mannaggia a te sei alto due metri dico la puoi indirizzare giusta sta palla babangita contro l'isselberg che prova a recuperarlo subito ancora ancora l'isselberg tiene ma poi citati ancora di più rimessa laterale è dato una spallata babangita con calma signori abbiamo subito creato una buona azione attenzione arriva potrebbe essere un ottimo investimento un ottimo investire attenzione a tutti 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 nella prima non ha non ha proprio attenzione grandissima l'apertura di tutti ma chi ma chi mamma mia babangita che errore la volevo da in profondità a bollata che era praticamente solo con il momento di babangita bollata si trovava solo e invece non ha capito niente babangita babangita non ha capito niente questi invece giocano giocano a me ma che cazzo di cosa ha fatto a rì tanto tanto di capiscono ne ho capito niente non ne ho completamente capito niente questi in tre passaggi sono arrivati in porta questa la differenza fra loro e noi signori che noi ci stiamo tre ore per arrivare in porta questi fanno tutto e arrivano subito in porta la differenza fra loro e noi babangita intanto ci riprova con una delle sue azioni movimentate ma non è riuscito attenzione tutti 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 che è stato acquistato signori per attenzione tutti 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 mio non è riuscito tanto a tenere fisicamente attenzione tutti 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 per babangita che si gira su se stesso babangita babangita entra in aria babangita babangita tutti siamo sotto di 1 a 0 io vorrei ricordarlo ai miei giocatori che siamo sotto di 1 a 0 non stiamo a vincere che possiamo cincischiare siamo sotto 1 a 0 dovremmo subito trovare il gol del pareggio ok perché contro l'arsenal è scontro diretto attenzione babangita è partito babangita è partito babangita è partito babangita è partito attenzione babangita bolatta 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 castello castello 1 a 0 1 la roma la pareggia la roma la pareggia grandissima azione di squadra babangita per bolatta che entra in aria la tira parata sbagliata il portiere castello a due passi la pareggia signori siamo vivi bella così bella così va bene dobbiamo cercare di mantenere questo spirito signori dobbiamo cercare di mantenere questo spirito perché questi a farci otto gol non ci stanno niente ecco tipo questo tipo 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 questa situazione attenzione babangita recupera il problema babangita lo perde nuovamente però io vorrei capire come fanno queste arriva subito davanti alla nostra porta però vabbè totti 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 altro falla c'è tutto albito dico i cartellini e te li sei veri se ha lo spogliatoio si lo spero attenzione pallone per babangita che se ne va ancora su quella fascia babangita 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 vede bolatta no tutti attenzione a no ma che cazzo non ho fatto fare ma che cazzo non ho fatto fare ma dai tutti 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 bravissimo vede spima e spima signori e stanno sta giocando da solo il gioco non capisco perché ha preso vita praticamente ha preso vita fa cose che non gli sto dicendo precisamente di fare però va bene però va bene calcio d'angolo per per l'arsenal non lo so è impazzito cioè va bene cerchiamo di riprendere il controllo della situazione calcio d'angolo mamma mia chivano per la completamente guardata adams nel canale nello stacco di testa attenzione iorga iorga cerca babangita che però è se fatto chiudere babangita mamma mia però che cazzarola di errori babba svegliati svegliati un poco boba dai porca miseria dai 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 forza bravo babangita si è svegliato da ma c'è proprio dei giocatori un pochino ritardati sono sono un pochino ritardi con tutto il rispetto ma li vedo un poco proprio nel mondo dei sogni con calma vai valeri vai valeri dimostra che si ma dimostra cosa dimostra cosa che non riesce a fare un cambio di passo dimostra cosa valeri mio mamma mia come ti metto sul primo treno per la disoccupazione mamma mia come lo faccio via via va bene dai dai calcio d'angolo trentacinquesimo stiamo un attimo soffrendo giustamente l'arsenal signori e squadra noi siamo ancora in costruzione l'arsenal e squadra insieme però che non recupera di balla per batti babangita non so come ci siamo arrivati non so come ci siamo arrivati ma non dobbiamo spregare questa occasione non la dobbiamo spregare balla il bamba il bamba il bamba l'abbiamo spregata non so come dobbiamo non la dobbiamo spregare l'abbiamo spregata in pieno attenzione castello castello ma è tanto difficile riuscire a fare due passaggi di fila giusti io non non capisco non concepisco questo signori è tanto difficile riuscire a fare due passaggi di fila giusti mamma mia cosa hanno sbagliato berkham comunque c'è l'arsenal è proprio un colosso c'è berkham ma porca miseria infame totti 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 attenzione bolatta che però sbaglia le tempiste niente signori non vedo la che finisca sto primo tempo stiamo andando troppo in agitazione stiamo andando troppo in agitazione l'arsenal fa quello che vuole l'ha toccata con le mani signori cadendo l'ha toccata con le mani se le porta davanti non gli ha dato e non mi ha dato falla punizione a me va bene va bene ma perché ma perché dai ma perché questi passaggi stupiti dobbiamo andare avanti no va ecco mi sembrava dico è vera e verità però mi sembrava un poco troppo poco troppo niente signori su quella fascia non ci riusciamo a giocare non c'è niente da fare il tuo valeri ha proprio i piedi a quadrato quindi rispostiamo ora babangita su questa fascia di qua perché proprio mi è incredibile è incredibile signori non come siamo combinati a fisico così così va bene dai 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 ripartiamo ripartiamo mamma mia che primo tempo agitato sono riusciti a trovare quel gol del pareggio e poi niente più signori niente più l'arsenal ci ha schiacciato come delle formiche questa cosa non va per niente bene considerando che dobbiamo batterli per cercare di rubare il secondo posto attenzione totti 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 e il pupone ancora non convince e il pupone non convince signori e il pupone non convince e questi mosso già dentro l'aria e il pupone non convince e questi mosso già dentro l'aria babangita 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 parte lui per via centrali questa volta babangita babangita cambia fascia babangita crea scompiglio gli ero data troppo presto gli ero data troppo presto valeri dai valeri mio però mamma mia valeri ancora babangita 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 che però ora si trova in una posizione sbagliata ma con uno due veloci no dai che era dentro il pallone era dentro il pallone ma perché mi devi far sclerare così tanto un pallone da dentro valeri riesce a far qualcosa intelligente ma ma non era vero mai nella vita ma stai scherzando ma ho preso il pallone ho preso il pallone madre e la pallone piena signori era pallone pieno e la pallone piena questo moratino in porta ivano così tutti noi vanno va bene calciata al nono minuto se riesco a trovare il gol del 2 a 1 melina che proprio non vedono non lo vedono più il pallone signori non lo vedono più dai 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 castello castello e da solo castello che chi cazzo la devo passare che ero da solo stava arrivando babangita dai 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 passala mamma mia valeri cioè guardate è tanto scarso che proprio non mi viene nemmeno voglia potrebbe essere la bandiera di questa squadra valeri signori proprio perché è l'unico giocatore che non cambierei perché è proprio tanto scarso che proprio quante volte l'ho ripetuto l'ho insultato in questo video valeri oggi no 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 va bene va bene palla babangita palla babangita totti babangita via 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 non riusciamo a fare due azioni di filasin due che siano due non è che dici proprio voglio la perfezione due azioni che siano due Totti, pallone per lui Totti, 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 Totti Totti, 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 Totti ma perché non sono entrato? ma perché non sono andato più avanti? grande azione della Roma signori azione di squadra della Roma che non so come ci sia arrivata lì, grande azione della Roma attenzione, attenzione ancora attenzione ancora, attenzione ancora no, mannaggia fuori gioco, meno male ricopriamo un pallone, un fuori gioco che non so neanche di resistenza però va bene, dettaglio, l'arbitro l'ha fischiato noi ce la prendiamo, attenzione, palla Babangita che decide di partire, Babangita, Babangita, Babangita Babangita, Babangita, Babangita Babangita, Babangita 2-1 della Roma sull'Arsenal Babangita Babangita dai così doi, 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 doi una sua azione un'azione delle sue bellissimo, ha trovato l'angolo perfetto al 24esimo signori, sono tre punti che ci servono mamma mia come ci servono questi tre punti signori, mamma mia come ci servono questi tre punti abbiamo tenuto finora, signori manteniamo la concentrazione manteniamo la concentrazione manteniamo la concentrazione mamma mia, mamma mia Valery stavolta perché c'è la Babangita che è veloce che è riuscito a rientrare velocemente no, erano in due erano in due, io non mi sono fidato di Valery ho fatto benissimo, signori erano in due, io non mi sono fidato di Valery calma, calma, calma guarda al centro, va bene, va bene Verlangen, Verlangen, Verlangen per Valery ancora per Valery ancora Verlangen, Verlangen, Verlangen per Babangita che vede Totti che decide di centrarsi che vede il movimento di non glielo dovevi dare lì non glielo dovevi dare lì mannaggia a te a chi ti fa giocare pure mannaggia a te a chi ti ha comprato no, mannaggia a te a chi ti fa giocare mannaggia a te a chi ti ha comprato Verlangen, Verlangen per Ximenes Ximenes, Ximenes, Ximenes bravissimo Verlangen che cerca Totti lo trova Totti, 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 Totti Non lo fermano, mannaggia Non ho visto che ero completamente libero Mio, non sono abituato a guardare Il radar, signori Non sono abituato a guardare il radar Ivano fa il trentasesimo Ivano fa il trentasesimo Calma, calma, calma Tienilo lì, calma, calma, calma Calma, 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 calma Babangita, babangita, babangita Dobbiamo prendere tempo, signori Mi servono le sgroppate di babangita per prendere tempo Mi servono le sgroppate di babangita per prendere tempo Rimessa laterale nostra Buona, 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 buona Perché l'ha rimessa a castello Sta palla Babangita Ho peccato, ho peccato troppo di Vorlangen, vorlangen, vorlangen Vorlangen, vorlangen Per castello, per castello Che vede valeri, mannaggia Che vede valeri, mannaggia Vede valeri, mannaggia Attenzione, attenzione Baci, baci, babba Baci, babba Tienilo lì Tienilo lì Bravissimo Vanno ancora Babangita No, no, no Valeri, sei tutti noi Valeri, 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 valeri Va bene, va bene Non ci stava Non ci stava questo fallo Non ci stava questo fallo Sto fallo non ci stava, porca misera, al 44esimo, sto fallo non ci stava, sto fallo non ci stava, Babangita la sparra, pacchia via. Attenzione, attenzione al contropiede della Roma, attenzione al contropiede della Roma, Bolatta, Bolatta, Bolatta per Castello. Castello, Castello, ogni minuto di recupero, Castello, Castello, Antiene, questo è un fallo, Castello. Totti, attenzione, Totti, Totti, Totti la tira sulla barriera. Valeri, Valeri, c'avevi a Babangita lì, Valeri mio, c'avevi a Babangita lì, Totti, attenzione, la birra non fischia, fischia ora, signori, impresa, la Roma batte l'Arsenal, 2-1, dai così, dai così. 3 punti importantissimi, 3 punti importantissimi, gol di Castello al 17esimo e poi il gol di Babangita su Assis di Valeri, ribaltato l'Arsa, signori, mamma mia che ribaltone, mamma mia, mamma mia, vittoria importantissima in lotta a promozione. Ci portiamo a casa 11 punti che non sono male, va bene così, va bene così, andiamo a vedere la classifica, siamo sempre quinti a 24 punti, signori, ma il West Ham è a 26, l'Arsenal a 28 e la Fiorentina a 28, signori. Siamo lì, siamo lì, siamo a 4 punti dal secondo posto con ancora tantissime partite da fare, ma siamo tutti lì perché il Parma neppure 24 e l'Ajax ne ha 22. Mi fate vedere un attimino che cosa è successo? Il Dortmund ha perso contro l'Ajax, il Parma ha battuto il Rio de Janeiro e la Fiorentina ha pareggiato contro il West Ham. Va bene, quindi abbiamo guadagnato 2 punti sulla Fiorentina, 3 punti sul Dortmund e giustamente 3 punti anche sull'Arsenal che abbiamo battuto. Signori, impresa storica. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti e per il supporto. Spero che questa serie vi continui a piacere, fatelo sapere sempre nei commenti. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao! Ciao!